Sì, fortunatamente è andata così, sono molto contento di aver aiutato la squadra in un momento di grande equilibrio che ha svoltato forse l'andamento della partita. Ci tenevamo veramente tanto a vincere la prima partita del campionato davanti al nostro pubblico, infatti siamo partiti molto concentrati, molto carichi, purtroppo il secondo set è andato in un'altra maniera e lì ci siamo un po' contratti. Fortunatamente, anche grazie a quel break in battuta, abbiamo girato il terzo set, ci siamo sciolti e abbiamo portato a casa la partita. Adesso la via è questa, continuiamo ad allenarci, a giocare al massimo per fare più punti possibili in questa prima fase e godiamoci però questa settimana i primi tre punti perché li volevamo e sono arrivati per fortuna.